Una manciata di voti ha separato il sindaco di Pisa, Michele Conti, dalla riconferma al primo turno. La sfida con il principale competitor, Paolo Martinelli, sostenuto da PD e Movimento 5 Stelle, finisce sul filo di lana ma consegna la città al ballottaggio. Conti 49,96%, Martinelli 41,2%. Il candidato di centrodestra ha seguito lo spoglio nello stesso luogo in cui si trovava 5 anni fa, quando diventò il protagonista della storica conquista della città. Soffiava forte allora il vento salviniano. Una scaramanzia che non ha funzionato anche se i suoi sostenitori ci hanno creduto per buona parte del pomeriggio. La partita inizia con un testa a testa ma il distacco tra i due si fa subito evidente, fino al superamento in serata del 50%, stabile. I commentatori di centrosinistra iniziano a parlare della bassa affluenza, solo il 56,4% dei pisani si è recato alle urne, che di solito si fa quando si è perso. Tutto cambia verso le 11 e mezzo di sera. Lo spoglio procede molto a rilento con il sito del comune completamente in crash che nella città che ha inventato internet sarebbe già una notizia. Conti finisce sotto il 50, poi lo supera, poi di nuovo sotto. Sembra risalire, ma no, si ferma lì. Nel mezzo voci si rincorrono. In una sezione intervengono anche i carabinieri e i numeri finali non parlano poi così chiaro. Una quindicina, i voti che mancano a Michele Conti per dormire tranquillo. Chissà che non si sia pentito di abitare altrove, non è residente a Pisa e non ha potuto votare per se stesso. Poi ci sono 25 schede contestate. Io mi occupo del ballottaggio, altri si occupano del rinconteggio di voti nelle dovute sedie. Però la grande soddisfazione è che noi siamo parecchio avanti rispetto al candidato con principale competitor e abbiamo vinto nei quartieri dove sempre vinceva il centro-sinistra e dove siamo avanti dappertutto. Nove punti separano Conti da Martinelli, ma al ballottaggio, insegnano anche esperienze recenti in Toscana, si riparte da zero. Ma la destra dava questa vittoria, pensava di averla in tasca, pensava che tutto questo fosse impossibile. In realtà abbiamo dimostrato che l'impossibile è possibile. Quindi noi ci siamo, la partita ora è zero a zero, si riparte e vogliamo vincerla. Martinelli potrebbe avere dalla sua i voti di Francesco Auletta, 6,73%, candidato della sinistra radicale che però ha sempre rifiutato, finora, di dichiarare appoggi. Poco rilevante è l'1,34% della candidata unica al terzo polo, ma con i conti al millimetro tutto fa e sono voti che fanno gola anche al centro-destra. Una cosa è certa, il PD è sì la prima lista con il 23%, Fratelli d'Italia è al 17%, ma a Pisa l'onda Schlein, che pure è venuta qui due volte, non è arrivata. Il dialogo nelle periferie del suo candidato non sembra sia stato ascoltato. La torre continua a pendere verso il centro-destra.